Senti adesso invece sta per arrivare una cantante, lei è molto bella, molto brava, sai con queste voci sempre intonate, molto pulite, ma il suo tratto distintivo, la caratteristica che mi piace di più di lei, a parte è una studentessa modello e si impegna molto sul sociale, infatti proprio qualche settimana fa è stata protagonista insieme ad altri ragazzi di un progetto legato alla legalità. Lei è Marianna Menga e ci fa ascoltare ancora, ancora, ancora. Musica. Con te dovrò combattere, non ti si può bigliare come sei. E i tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. Un attimo tu sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Io vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ricevono regali rose e rosso per il loro compleanno. Dicono sempre di sì. Non hanno mai problemi e sono convinte che la vita è tutta lì. Invece no, invece no, la vita è quella che tutta lì a me. In guerra tutti i giorni sono viva, sono come piace a te. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio, poi ti odio. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ti odio, poi 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 ti odio. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. è tanto più. È tanto complimenti per il look per la vista. È proprio imperfetto tema natalizio. Io poi ti volevo fare complimenti perché tu fai veramente tantissime cose, sei proprio una ragazza, un po' la figlia che tutti vorrebbero avere, perché sei brava in tutto quello che fai, ti impegni moltissimo nello studio, nella vita, in famiglia, ami proprio l'arte e poi hai anche fatto parte di questo progetto importante che riguarda la legalità, dove tu sei sempre in prima linea, là dove si parla di sociale e di solidarietà. Beh sì, ho per il secondo anno di seguito partecipato a questo progetto per la legalità e sono stata protagonista con vari ragazzi di molte scolaresche romane in un concerto dove ci siamo cimentati in parecchie cose perché ognuno suonava, faceva qualcosa e io personalmente mi sono arricchita tanto perché quest'anno ho imparato a suonare la chitarra, l'anno scorso la batteria, quindi ci siamo scambiati tutti i ruoli possibili e immaginabili e diciamo che per un musicista, per un cantante ecco è sempre motivo d'arricchimento e condivisione. Senti, la faccio anche a te la domanda, tu hai buoni propositi per il prossimo anno? Che cosa ti auguri intanto? Cosa vorresti realizzare? Sei molto giovane. Sono scaramantica, non dovrei dirlo però abborrei tanto una laurea, finalmente vorrei tanto! E poi nella vita non finisce qua! E poi non finirà sicuramente qua, insomma è quello che mi auguro per l'anno a venire. E poi, ahimè, un po' di scaramanzia ci vuole però, lo dico! E anche un pizzico di fortuna, no? Anche quella è importante. Senti, io ti auguro veramente le cose più belle, che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi e vieni a trovarmi quando vuoi. Sempre un piacere! Quanto ti stimo e quanto veramente ho molta, molta considerazione di te. Brava! Brava Marianna, brava, brava, bravi anche i nostri ragazzi!